Buon pomeriggio a tutti, intanto consentitemi dei doverosi ma sentiti ringraziamenti a Rizzoli Education per l'invito oggi e segnatamente alla dottoressa Marsili che non sono mai stato presentato così bene, questo devo dirvelo, anzi in un paio di occasioni mi sono dovuto autopresentare ed è stato veramente molto imbarazzante, questo succede qualche volta. Poi soprattutto a voi perché avete sfidato le temperie del clima, anche sottoscritto, perché devo confessarvi che alle 13 o giù di lì ero ancora bloccato nei pressi di Torino sul Frecciarossa, per la prima volta si era rotto il locomotore, ero convinto che i Frecciarossa fossero indistruttibili, invece ero lì bloccato in mezzo alla tormenta. Allora, la chiacchierata di oggi pomeriggio si riadatta in parte anche sentito gli interventi dei colleghi precedentemente, quindi non me ne vorrete se ogni tanto il filo del discorso aprirà qualche piccola parentesi, vedrà aperta qualche piccola parentesi e ci sarà qualche interruzione. Per richiamare quello che è stato detto precedentemente, perché mi ha molto colpito e in parte ha già anche anticipato alcune delle cose che volevo raccontarvi. Allora, no, coffee break direi di no, perfetto. Tra l'altro anche in questo caso non ho mai avuto delle slide così belle, non è merito mio, ma è sempre merito degli amici Rizzoli, io ho fatto una cosa molto più triste, col pigreco da un lato, insomma, quello che uso normalmente. Vedete, questa è una cosa importante, io insegno in un liceo classico, non è importante il fatto che io insegni in un liceo classico, ma è importante ai fini della chiacchierata che facciamo oggi pomeriggio, perché se mi devo riferire agli interventi precedenti, le due unità didattiche che vi farò vedere costituiscono il riempimento delle parentesi di cui stava parlando prima il professor Trinchero e il punto 2 della quarta slide della collega Lorella, cioè dell'aspetto motivazionale. Questo è quello che vado a raccontarvi oggi pomeriggio. Allora, viva Euclide, e viva Euclide fa il verso a una cosa molto più celebre, molto più nobile delle cose che vi racconto io oggi pomeriggio. Intanto volevo con voi fissare lo stato dell'arte dell'insegnamento della geometria euclidea piana nelle nostre scuole. Beh, negli ultimi decenni abbiamo avuto un progressivo declino dello studio della geometria euclidea in tutti gli ordini di scuole, questo è un dato di fatto, sopravvive così come la conosciamo noi e in parte ampiamente rimaneggiata, direi, nei licei scientifici. Tenete presente che appunto io insegno in un liceo classico, cioè uno di quegli ordini di scuole a cui mi riferirò, nessuno se ne abbia male, chiamandole istituti a matematica debole, perché questo è, quindi penso, liceo classico, in parte anche i licei linguistici, i licei artistici, l'ES, il socio, il psico, eccetera. Difficoltà sempre più accentuate degli studenti a creare autonomamente una visione geometrica della realtà circostante. Torniamo a quello che stavamo dicendo prima, la realtà degli studenti è una cosa, poi lo ripeterò dopo, ben diversa dall'aspetto quotidiano loro, è una realtà interiore e nella loro realtà interiore la capacità di geometrizzazione, lo stavamo ancora ripetendo prima con alcuni colleghi che conosco da molti anni, è sempre più difficoltosa. Gravi difficoltà nello svolgimento di attività di problem solving che coinvolgono la geometria declinate a tutte le sue accezioni. Quando si tratta di lavorare in geometria, anche a partire da dati della realtà degli studenti, si pongono dei problemi di problem solving e le difficoltà sono molto più accentuate che non in algebra o in analisi o addirittura in calcolo di probabilità e in statistica. Difficoltà ad affrontare temi pluridisciplinari e multidisciplinari che vedano coinvolte la geometria, il disegno e anche la storia dell'arte, poi vi dirò perché nel mio caso è così sentito questo aspetto, è così rilevante, e poi una progressiva marginalizzazione dei corsi di geometria nel primo bienio universitario. Ora un bravo relatore non dovrebbe mai fare riferimento alla propria autobiografia, ma mi concedete proprio due incisi rapidissimi. Perché vi dico quest'ultima cosa? Perché per otto anni ho svolto attività di sostegno alla didattica presso il Politecnico di Milano. Sostegno alla didattica, si traduce insomma in modo nobile per dire esercitazioni e un po' di assistentato. Ero cultore della materia all'inizio di geometria, poi è diventata geometria e algebra lineare, poi geometria, algebra lineare ed elementi di analisi. Poi alla fine sono rimasti solo gli elementi di analisi, cioè di quello splendido programmone che la collega aveva messo in piedi in 85 ore di corso, corso da 10 crediti, quindi un corso molto importante per studenti udite di architettura, dove la geometria avrebbe dovuto essere rilevante, beh alla fine di fatto è scomparsa. E anche gli studenti di architettura che avevano una provenienza da istituti, là dove la geometria avrebbe dovuto farla da padroni, in particolare la geometria descrittiva, penso ai licei artistici, beh erano in forte difficoltà a costruirsi una dimensione geometrizzata della realtà. Per ritornare a quello che diceva prima il professor Trinchero. Altro piccolo inciso autobiografico, lo raccontavo prima ad alcuni colleghi, forse vale la pena che ve lo racconti, quando si parla di problem solving e di capacità e di competenze, una mia amica, mia compagna delle scuole elementari, donna di cultura decisamente elevata, ha deciso di mettere da parte la laurea in lettere e il diploma al conservatorio per rilevare le attività di famiglia. L'attività di famiglia significa una catena di autoscuole. Qualche anno fa mi telefona e mi chiede così, dice ma Mauro ma l'ha insegnata ancora la geometria? Dico certo, per quale ragione? È un motivo molto semplice, quando faccio io lezioni teoriche agli studenti italiani, perché ha moltissimi studenti stranieri che stanno convertendo la patente straniera, cioè quando io parlo di intersezioni a raso, quando parlo di strade parallele, quando parlo di svoltare al di sotto del centro ideale della rotonda, verso sinistra o verso destra, gli studenti italiani, i ducciotenni italiani mi guardano con l'occhio pallato, non capiscono una riga, per il sollazzo degli stranieri che ridacchiano in continuazione, esattamente come ho fatto io, come state facendo voi. Pico dice, questi non hanno più nessuna capacità di proiettare nella geometria la loro realtà circostante, e io ho dovuto prima tranquillizzarla, poi quando sono andato a casa ho riflettuto molto su questa questione. Ora, vi dicevo, il titolo fa il verso a cose più nobili, perché nel 1959, presso l'abbazia di Royamon, si è riunito il convegno biennale dell'AICM, cioè dell'Associazione Internazionale per l'Incremento della Didattica della Matematica, che era un organismo dell'OCE, cioè dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico in Europa, che aveva avuto tra i soci fondatori alcuni nomi molto importanti, eravamo coperti dal punto di vista psicologico-evoluzionistico, scusate, psicologico, chiedo scusa, dell'età evolutiva da Piaget, tra i soci fondatori di Odoné, e poi per l'Italia Emma Castelnuovo, quindi dal punto di vista didattico eravamo coperti dalla Castelnuovo. Quello del 1959 è stato di questi convegni il più celebre, perché era quello dedicato esplicitamente al rinnovo dei programmi scolastici in tutti i membri OECE, quindi molto importante, era presieduto da un matematico noto e famoso, Marshall, all'epoca molto noto e molto famoso, inglese, e ebbe un rumore fortissimo nel mondo per questa relazione fatta dal nostro amico di Odoné. Ora, inutile che ci raccontiamo, siamo tutti i matematici fisici che furono i burbachisti, e all'interno del burbachi che importanza ebbe di Odoné. Ma di Odoné fece questa celebre prolusione, tenne questa prolusione dal titolo Abbas Euclid, quindi Abbas Euclide, dove furono pronunciate queste parole, insomma, che lui ha ripetuto anche in altre sedi, di essa si può salvare solo la descrizione del sistema di assiomi, cioè di chi, della geometria euclidea, con l'aggiunta di alcune conseguenze utili e di qualche esercizio interessante. Il tutto può essere svolto in tre ore di lezione, va invece eliminato lo studio delle proprietà dei triangoli, poi va oltre di Odoné e fissa una serie di assiomi, fissati da lui, per costruire gli spazi vettoriali in modo semplice, e fa derivare dall'algebra vettoriale tutto il resto della geometria, cioè tutto quello che si può immaginare di più burbachistico, di più algebrizzato in campo geometrico. Ora, sarebbe scientificamente scorretto, uno storico della matematica mi tirerebbe le orecchie, se dicessi che è colpa di Odoné il progressivo declino dello studio della geometria, è una sciocchezza, è ovvio. Però quando facciamo della storia bisogna iniziare a fissare dei paletti e delle date. Senza ombra di dubbio questo intervento ebbe, come dire, un peso veramente determinante nel far declinare lo studio della geometria, in particolare in Francia. C'è un'intera generazione, la mia generazione, cioè quella dei ragazzini nati negli anni 60, che non sa, francesi, che non sa una virgola di geometria. Da noi è arrivata un'onda più lunga, perché sapete che le cose di noi arrivano con una certa calma, e questo a volte ci mette anche al riparo da guai grossi, per la verità. La nostra inefficienza e un certo tipo di inerzia ci salva ogni tanto, per cui in realtà adesso sono i ragazzini degli anni 80 che sanno poca geometria. Vabbè, a noi per ora interessa poco, diciamo che noi più o meno guardandoci così ci siamo salvati in qualche misura. Ora, quello che vi farò vedere adesso sono due proposte che nascono da un'esigenza. L'esigenza di tipo motivazionale. Io ho degli studenti carini, beneducati, insegno in un liceo classico, in un prestigioso liceo classico, il liceo d'Azeglio è un liceo che ha fatto la storia culturale e sociale della mia città, di Torino, non ho difficoltà disciplinari, nel senso che di disciplina, nel tenere l'attenzione degli studenti, loro sono molto motivati, studiano perché devono farlo. Studiano spesso perché devono farlo, ma non perché siano molto convinti, hanno fortissime pressioni familiari, hanno un buon sostegno familiare. Ora, quello che sto per raccontarvi oggi, non penso che possa essere riprodotto ovunque e comunque uno ci può provare, ma ciascuno di noi, secondo me, deve, al di là delle teorie, trovare una via alla propria didattica. E allora, la realtà dei miei studenti è una realtà, e qui ritorno, spesso noi confondiamo realtà con quotidianità. Io sono d'accordo con quello che diceva prima il professor Trinchero, realtà è una cosa molto più complicata, cioè non significa guarda fuori dalla finestra e modellizza geometricamente quello che vedi fuori. La realtà dei miei studenti è la realtà dei studenti che sono molto impegnati, devono lavorare tanto e devono trovare dentro di sé delle ragioni per fare certe cose. Come tutti i licei classici, il mio liceo classico lo dico senza giri di parole in agonia. Noi siamo passati da avere 1110 studenti ad averne 655, perché ormai, lo sapete, rappresentiamo una fetta proprio marginale della popolazione scolastica italiana. I dati variano un po', ma tra il 4,5 e il 6% dell'intera popolazione a volte non ci arriviamo nemmeno. E allora, per salvarci, ci siamo inventati delle curvature, una curvatura scientifica, un ESABAC e una curvatura dei beni culturali. Io insegno in quella scientifica e in quella dei beni culturali. Gli studenti dei beni culturali studiano molta storia dell'arte, hanno due insegnanti di storia dell'arte, una che insegna storia dell'arte così come la conosciamo e l'altra che insegna conservazione dei beni culturali. Quindi la loro realtà significa confrontarsi con la storia dell'arte italiana in particolare. E allora io parto, nelle prime lezioni, da questa cosa qui, perché poi, secondo me, nella motivazione c'è anche la necessità di spiazzarli ogni tanto. E allora io inizio a raccontare questa cosa. No, forse, ce la faccio. Eccoci qui. La storia di un eroe sconosciuto. E questo eroe sconosciuto è Anthony Clark. Anthony Clark è un giovane capitano, 27enne, nel 1944. È giovane, ma è un reduce della campagna d'Italia. Ha alle spalle molti anni di guerra. È un capitano di artiglieria. Gli viene ordinato di portarsi lungo la provinciale che va da Firenze ad Arezzo verso una cittadina che deve radere al suolo. L'ordine è chiaro, è semplice. Non deve rimanere mattone su mattone della cittadina. L'approccio è quello che gli angloamericani hanno già sperimentato a Cassino. C'è il sospetto che ci sia un battaglione di granatieri tedeschi. Non possiamo permetterci di affrontarli. Non possiamo permetterci di lasciarci alle spalle. Radere al suolo con la batteria questa città. Però questa cittadina gli ricorda qualche cosa. Ma lui, in mezzo ai vari traumi della guerra, ha ormai una memoria labile. È un uomo di cultura. Si ricorda di averla già sentita, ma non sa dove, come e quando. E allora leggiamo assieme le parole del capitano Clark. Dovevo avere 18 anni quando lessi un saggio di Aldous Huxley. Ricordavo con chiarezza il racconto del suo faticoso viaggio da Arezzo a San Sepolcro. E tuttavia quanto meritasse farlo quel viaggio, dato che a San Sepolcro c'era la resurrezione di Piero della Francesca. La più bella pittura del mondo. Feci un calcolo dei bossoli sparati e fui sicuro che se non l'avessi già distrutta avrei potuto proseguendo il bombardamento danneggiarla gravemente e feci cessare il fuoco. Perché la città era appunto San Sepolcro. Inizia a bombardare la città dopo tre o quattro colpi, dice nella sua memoria, e faccio cessare il fuoco. Viene processato per questa decisione, ma è un eroe di guerra, se la cava. Torna a casa propria, in realtà è sudafricano di origine, e a città del capo fonda quella che diventerà la più importante e influente libereria, siamo in casa di una casa editrice, quando possiamo citarla, di una libereria sudafricana. Un centro culturale molto importante per il Sudafrica. Questa è una storia che si conosce nel 1980. La città di San Sepolcro gli conferisce la cittadinanza onoraria. Quello che non si sapeva fino a tre anni fa è che lui aveva tenuto un diario di guerra molto importante, che hanno ritrovato i nipoti alla sua morte nel 2011, dove lui dichiara di essere rimasto traumatizzato per sempre dalla distruzione di Cassino, a cui ha partecipato, e di aver deciso, a proprio rischio e pericolo, della propria incolumità, di risparmiare San Sepolcro. Perché raccontiamo questa storia? Raccontiamo questa storia, ma ce la faccio, è prima della fine, lo sento. Cosa dice Oxley? Dice, è una città circondata da mura antiche, situata in un'ampia valle tra le colline, bei palazzi rinascimentali in ferro battuto, una chiesa molto interessante e infine, opinione sua, il miglior dipinto del mondo. Questo è tratto da lungo la strada, notazione di un turista, di Oxley, che nel 1925 fa il grande tour. Beh, vediamolo questo dipinto, questa volta ce l'ho fatta, no, è quasi, l'ho detto troppo in fretta. E la Ressurrezione di Piero della Francesca, personalmente non sono così d'accordo, secondo me ci sono opere di Piero della Francesca più belle di questa, è conservata ovviamente a San Sepolcro, nei musei civici, alcuni storici dell'arte sono d'accordo con Oxley, ma perché parliamo di Piero della Francesca e perché ne parlo ai miei studenti? Perché Piero della Francesca è l'archè dell'uomo rinascimentale, è il rinascimento, è un signore di cui si sa molto poco, vedete quelle date con il punto interrogativo, ci sono perché il Vasari ha contribuito, come dire, a impappocchiare le date, non si sa se sia nato nel 16 o nel 17, adesso qui non ho tempo, ci sono dati notarilli che dicono nel 17, il Vasari dice nel 16, non importa. Però ci ricordiamo quando è morto, perché è morto il 12 ottobre 1492, quindi viene difficile dimenticarsi, la data di morte ce l'abbiamo assolutamente precisa, è l'autore del De Prospettiva Pingendi, forse 1482. Avete visto che anche prima la data in cui è stata dipinta la crocifissione era molto ampia, c'era un range di 13 anni, perché anche qua il Vasari ha contribuito ampiamente, come dire, alla cattiva fama di Piero della Francesca. E il più grande, per gli storici della matematica, è il più grande matematico italiano, e non solo italiano, continentale del Rinascimento. È il nostro nome tutelare, è quello che ci accompagna in questo viaggio, che adesso iniziamo assieme. Perché poi, dopo Piero della Francesca, ah, scusate, quello che volevo dirvi è appunto che la nostra chiacchierata oscilla tra i due concetti di modello e di realtà, quello che vi ho detto precedentemente, sul concetto di modello sappiamo tutto tutti, quindi non vorrei soffermarmi più del dovuto, perché abbiamo poco tempo, anzi, quando siamo ai dieci minuti, grazie. Eccolo qui, questo è uno dei miei quadri preferiti. Questa è una maternità, secondo me è una delle più belle, ma lo dico nella mia ignoranza assoluta e totale, di cose della storia dell'arte. Gino Severini. Gino Severini è un artista molto noto in Francia, poco in Italia, oggi i toscani, nella nostra chiacchierata la fanno da padroni, perché è di Cortona, è uno che ha attraversato, ha una vita lunghissima, lo vedrete, muore nel 66, e ha attraversato tutte le correnti, nasce come post impressionista, poi per un certo periodo non è tanto convinto di quello che sta facendo, allora si avvicina alle avanguardie, diventa futurista, poi diventa cubista, poi è uno dei fondatori del cubo futurismo. Dopodiché ci ripensa, per il resto della vita, insomma, campa della sua fama, è un birichino, uno di quelli che piacciono a me. Nel 1916 dipinge questo quadro bellissimo, l'immagine è dolente perché questa è sua moglie, Jean Ford, la figlia del poeta Paul Ford, e quello è il figlio minore, uno dei tre figli Giovanni, che di lì a tre giorni morirà. Loro lo sapevano perfettamente che il bambino era morente, per cui viene dipinto in fretta e furia questo quadro, e io lo faccio vedere ai miei studenti, e a proposito di quello che si chiedeva prima, cioè le competenze, che cosa ci vedi in questo quadro? E allora ne discutiamo un po', insomma, è chiaro che ci vuole un po' di tempo per fare queste cose, non bisogna avere fretta. Ne discutiamo un po', perché poi succede questo, ad un certo punto, succede che faccio vedere questa roba qui. Questo non me lo sono inventato io, sono le parole di Severini. Lui si è studiato per il lungo, per il largo, in quegli anni, il 1916 non è andato a caso, è l'anno in cui De Chirico pubblica il famoso articolo sul ritorno all'ordine. Cioè le avanguardie stabiliscono che è necessario fare due cose, riferirsi di nuovo al passato, dopo il periodo dell'impressionismo, del post-impressionismo, dell'espressionismo, ritornare allo studio della geometria euclidea e dei classici e applicarlo nelle composizioni pittoriche. Severini, che vive a Parigi in quel periodo, grande amico di Picasso, conosce perfettamente De Chirico, si accoda, inizia a studiarsi di nuovo tutta la geometria euclidea e lo dice poi proprio nel libro che vedrete tra poco che ha studiato tutta la composizione a colpi di triangoli rettangoli delle altezze relative all'ipotenusa. In quale testo? Lo vediamo qui in ritorno all'ordine dal cubismo al classicismo Parigi 1921. Vi ho messo questo autoritratto perché vi garantisco che Severini non è molto bellino. Assomiglia in una maniera inquietante a un personaggio che io detesto, D'Annunzio, anzi un tantinello più brutto di D'Annunzio, d'anziano. Qui era ancora passabile, è un autoritratto nel 1906 nel periodo post-impressionista. Ma non c'è solo lui, ce ne sono moltissimi altri che gli vanno dietro. Io vi faccio vedere questa cosa. Qui siamo nel 1925, questo Elijinsky, in realtà si chiama Markov Elijinsky, questo è uno pseudonimo, ha una vita interessante, anche questo da raccontare agli studenti, perché è un pittore. È un pittore fotografo, però è laureato in architettura e vive in tempi un po' complicati in Unione Sovietica, per cui gli viene detto fai pure il pittore, fai quello che ti pare, però costruisci i palazzi. Ci serve quello, insomma. Poche storie, lì siamo alle competenze forti davvero, ho torto collo. Allora lui mette assieme le due cose, cioè la passione per la pittura e la fotografia da una parte e per l'architettura dall'altra, viene in conoscenza di quegli articoli di cui ho parlato prima e inizia a produrre questi celebri prone. Adesso è chiaro che non sempre lo faccio leggere agli studenti, dipende in che condizioni sono e come li vedo, perché è molto difficile, ma il pro un inizia come una superficie piana, poi si trasforma in un modello dello spazio tridimensionale e infine questo prosegue evolvendosi con la costruzione della fusione asimmetrica e plurirassiale di tutti gli oggetti del vivere quotidiano. Anzi direi che quasi mai lo faccio leggere, però tra di noi possiamo dircelo insomma. Ma proseguiamo con esempi di questo genere, perché questo lo conoscono tutti e Kandinsky, anche qua ci chiacchieriamo su un bel po' e allora mi dicono la classica frase che dicono tutti quelli che non apprezzano l'arte del Novecento, è capace un bambino di due anni a fare questa cosa. Va bene, proviamoci. Ho la collaborazione della collega di storia dell'arte ovviamente, ma sapete che Kandinsky pubblica questo celebre trattato punto linea superficie nel 25 a cui io faccio sempre riferimento, quando sono un pochino più grandicelli lo faccio leggere e dice queste cose, in ultima analisi ogni forza trova espressione in un numero. Per l'arte questa è un'affermazione di carattere più che altro teorico. Poi però dice da un tale momento in avanti ogni composizione potrà ricevere un'espressione numerica quindi quando dalla teoria saremo passati poi felicemente alla pratica. Proseguiamo sempre e a questo punto bisogna convincere quelli che sono più capetoste che dico sì, vabbè ma questa roba qui funziona in quelle cosette che ci ha fatto vedere prima funziona nell'arte del Novecento è geometrica prendiamo i pittori veri come mi ha detto l'altra settimana un mio studente perché i pittori veri sono quelli da Van Gogh indietro gli altri sono tutti falsi. In realtà qui c'era un indovinate che cos'è è anche partito quell'immagine non vogliate me ne è ma non importa è il martirio di San Matteo Caravaggio ovviamente la cappella Contarelli di San Luigi dei Francesi uno vede un quadro così movimentato e tutto pensa tranne che un pazzo furioso come Caravaggio un uomo dal temperamento così forte si sia messo a fare degli studi geometrici dietro e invece no intanto vedete quel rilievo che avrebbe dovuto venire dalla prossima animazione in avanti e il volto del legionario che sta uccidendo San Matteo e presumo che vi ricordi qualche cosa perché ricorda uno dei carboncini della battaglia preparatori della battaglia dei Anghiari di Leonardo e a questo punto che faccio un inciso con gli studenti perché dico loro sempre questa cosa cari fanciulli conoscete tutti quanti la frase attribuita erroneamente a Newton ma in realtà di Bernardo Richard gli uomini sono nani che si ergono sulle spalle di giganti quindi se hai il piacere di studiare qualche cosa e di fare carriera di combinare qualcosa di prima devi studiare tutto quello che hanno fatto quelli che ti hanno preceduto cioè devi conoscere bene quello che ti ha preceduto e la teoria di quelli che ti hanno preceduto ma torniamo a San Matteo eccola qui c'è uno studio geometrico molto importante ora lo dico per assoluta correttezza perché così deve essere non è un'opera mia questa ovviamente è stata pubblicata su Scienze in Rete è un ricercatore del CNR che faceva modelli matematici per la geologia che si è accorto di questa cosa ed è a questo punto che c'è il San Tommaso di Turno che dice vabbè è un caso e allora andiamo subito con la deposizione che è un quadro ancora più in movimento è sempre Caravaggio sempre in questo caso non più scusate la Cappella Contarelli ma è la Pinnacoteca Vaticana e qui c'è lo stesso identico studio vedete di geometria ce n'è ce n'è un bel po' e allora a questo punto iniziano a seguirti un po' meno perplessi rispetto a qui stiamo andando avanti con i giorni non sto andando avanti così rapidamente come faccio con voi ecco una delle cose che accetto di fare è di perdere del bel tempo come si suol dire non mi faccio problemi di programmazione questo lo dico proprio senza problema alcuno perché non si possono risolvere queste cose in due, cinque, dieci minuti un quarto d'ora come sto facendo con voi è ovvio perché bisogna lasciare aperto uno spazio alla discussione c'è tutta un'introduzione c'è tutto il folklore che poi mi porto dietro in questi casi o poi metto questa frase di Miró così ad effetto le forme germogliano e mutano si interscambiano e così creano la realtà di un universo di segni e di simboli però andiamo alla realtà degli studenti e poi quando sono un pochino più grandicelli se una classe reattiva per esempio dell'orientamento scientifico dove ho più ore lo faccio già con quelli di quarta ginnasio se no lo riprendiamo con quelli in prima classico cioè al terzo anno questo è il o devo dire che queste slide sono bellissime comunque il Gateway Arch di Evo Sarinen e Hans Karpanden è una storiella interessante perché io chiedo sempre agli studenti ma cos'è quella roba lì? e chi ne sa un pochino di più mi dice subito immediatamente è una parabola ecco vabbè lasciamola lì è una parabola ricordate la lavagna di Ardesia divisa in due va bene lasciamo la parabola ha una storia interessante perché questo non lo sapevo nemmeno io l'ho scoperto quando l'ho visto la prima volta è il manufatto più grande dell'emisfero occidentale è alto 195 per 195 è una storiellina dietro un po' inquietante perché è stato mi è simpatico perché come dire è stato inaugurato qualche mese dopo la mia nascita ovviamente nell'ottobre del 1967 ma in realtà è stato terminato nel 1965 su un progetto iniziato nel 1962 su un progetto originale del 1947 sostanziamenti del 1935 quindi quando ci lamentiamo del nostro paese andiamoci piano tant'è che Sarine non l'ha mai visto realizzato e Bandel che era un profugo tedesco era un giovane architetto strutturista tedesco che lo ha realizzato tra l'altro è cavo all'interno c'è un ascensore per arrivare fino in cima e la porta dell'Ovest è stato voluto per celebrare i presidenti Jefferson e Jackson e tutti quei pionieri che si sono avventurati verso l'Ovest in particolare iniziare dalla spedizione di Lewis e di Clark loro mi dicono sì sì è una parabola io non ho obietto niente è una parabola andiamo pure avanti sulla parabola poi parliamo di questa roba qui salto di palo in frasca per disorientarli perché questo è il ponte della Trinità di Michelangelo Bonarroti e da Mannati tra l'altro uno che sia un po' sensibile alle date io ho proprio questo pallino 1567 1571 c'è qualcosa che non funziona perché Michelangelo era morto da tre anni in realtà è progettato da Michelangelo ma realizzato da Mannati questo è quello che il nostro uno dei nostri ex presidenti del consiglio e uno degli uomini di cultura più importanti del novecento Giovanni Spadolini ha definito il ponte più bello del mondo e allora chiedo loro dato che ne abbiamo anche di simili a Torino ma stercate che cosa sono risposta sempre sulla lavagna d'Ardesi ellissi subito sono delle mezze ellissi nessun problema ora guardate che le risposte non sono banali anche le risposte giuste non sono così banali tra poco vi dico anche per quale motivo e poi arriviamo qui è proprio il vissuto ah qua il tripudio allora dovete sapere che non lo sa nessuno che cos'è questa roba qua perché stiamo discutendo tra amici alcuni sono ordinari di geometria non vi dico i nomi perché non gradirebbero ma erano presenti con me a Castel San Pietro dove ho già fatto vedere alcune di queste cose e ci siamo dedicati a che cos'è quello è una parabola dicono gli studenti ovviamente voi avete già capito dove voglio andare a parare quelli più scaffati con una catenaria una doppia catenaria no forse non è neanche una catenaria adesso siamo giunti a questa conclusione è che se prendete i prolungamenti degli archi più esterni e li intersecati ottenete sì una catenaria quindi un inviluppo di catenarie bisognerebbe chiederlo al signore che lo ha progettato e che ha fatto fare un salto di qualità mostruoso nel 1962 delle vendite della McDonald perché ci sono splendidi siti dove vi raccontano il successo dei marchi in relazione al tipo di geometrizzazione sono veramente molto molto interessanti il signore che l'ha fatto si chiama Schumacher ma in realtà è un americano ed era un ingegnere ora tra matematici fisici ed uso fare le barzellette sugli ingegneri lo sappiamo tutti ce li guardiamo con un po' di spocchia quando lo facciamo la prossima volta pensate ai soldi che questo signore qui ha fatto fare a McDonald perché guardate com'erano i marchi originari questo è quello originale del signore McDonald poi vabbè già un po' meglio e poi arriviamo a questo che è uno degli ultimi credo che incorpora i precedenti però insomma un salto di qualità veramente interessante sempre sulla lavagna di Ardesi abbiamo messo un po' di robe le abbiamo scritte eccetera e a questo punto che dis... ah attenzione non sono matto mica vado a far vedere questa roba qui agli studenti del quarto e quinto scusate di quarta e quinta ginnasio non sono matto da legare e inizio a parlare della catenaria insomma ieri sera avevo dei dubbi se questa potesse essere definita una catenaria perché non risponde a uno dei due requisiti secondo me non è uniformemente densa ma facciamo finta che sia una catenaria iniziamo a parlare della catenaria andiamo a cercarla un po' di... ah vabbè questo è uno dei miei pallini spero non parlate male assolutamente di GeoGebra però io uso Desmos perché mi piace tanto è più rapido per alcune cose certo non fa quello che fa GeoGebra ma con Desmos lì metto uno slide e li convinco che quella A a qualcosa serve e gli dico non guardate l'equazione anzi gliela nascondo proprio però giochiamo con lo slider e vediamo cosa succede ma vi ricordate il ponte bello che vi ho fatto vedere prima quello di Amannati e di Michelangelo beh è una storia che si riallaccia a quella di prima non a caso ho detto una data quella dell'agosto 44 perché la notte tra il 4 e il 5 agosto del 44 i genieri tedeschi abbattono tutti i ponti tutti tranne Ponte Vecchio che ci sono sull'Arno compreso quello originale lo buttano giù ora dato che l'Italia comunque funzionava dopo la fine della seconda guerra mondiale ci si pone il problema di ricostruirlo subito e viene dato un incarico ad una commissione e vabbè qui noi matematici ingegneri non ci facciamo una bella figura perché arriva Emilio Brizzi che è un ingegnere che insegna è uno strutturista insegna costruzioni presso la facoltà di ingegneria civile dell'università di Firenze arriva lì e dice è ovvio si vede subito ci sono i verbali si vede subito sono degli archi di parabola amplissimi si vede si vede fa i disegni e sta roba non sta su hanno recuperato i conci tra l'altro dal dal greto dell'Arno e hanno cercato di tenere in piedi la struttura la struttura non stava il progetto di Brizzi viene bocciato due volte e allora poi interviene l'architetto Gidulic che vedete lì che era uno degli architetti della sovrintendenza fa una cosa che sarebbe piaciuta molto al professor Trinchero non so se è ancora qui in sala non lo vedo ma mi sarebbe piaciuto di sicuro perché fa una cosa proprio da competente che però non ha grandi cognizioni alle spalle si mette lì con la carta copiativa la mette sopra le vecchie fotografie vecchi dipinti riproduce e dice no ma questo è un arco di catenaria proviamo a ricostruirlo come arco di catenaria il ponte nel 56 viene inaugurato queste sono le centine di costruzione la foto originale e il ponte sta su quello che vedete adesso qui è il ponte ricostruito dalla commissione dove viene di nuovo tirato dentro secondo me per pietà Emilio Brizzi e poi di nuovo Gidulic ricostruiscono il ponte questa è una storia che gli studenti piace sempre anche l'ingegnere sbaglia certo anche gli ingegneri piangono poi St. Paul Cathedral più o meno i miei studenti viaggiano abbastanza la conoscono gli racconto la storiellina del grande incendio del 1666 eccetera ha fatto giustizia a questo povero uomo di Robert Hooke e gli hanno rubato tutto quello che si poteva rubare ha avuto una disgrazia tremenda come Felice Gimondi è nato quando c'era Merckx Robert Hooke è nato quando c'era Newton ha fatto un sacco di cose interessanti in realtà non è di Vren la ricostruzione della catenaria che è fatta in legno e piombo il dome più interno di St. Paul Cathedral è quello che regge di tutta la struttura è un arco di catenaria perché lo sapete tutti poi lo spiego bene agli studenti che l'arco di catenaria distribuisce in modo uniforme tutte le spinte ha un sacco di belle proprietà insomma ci chiacchieriamo sopra e vediamo poi non si può non parlare ovviamente di quel geniaccio di Gaudì però non vado a prendere le cose più note di Gaudì vado a prendere questa che è una delle cose note agli storici ovviamente dell'arte che è questa splendida infilata che è stata possibile solo con l'utilizzo del cemento armato che è l'ingresso del chiostro del convento telesiano di Barcellona poi vi faccio vedere questa immagine qui a lato anche per spiegare che in realtà stiamo tarroccando un po' i dati in realtà vedete i dati sono questo all'arco di catenaria e poi sotto l'appoggiato sul muro e dritte per sostenere tutto quanto dopodiché facciamo vedere cose più note facciamo vedere queste sono le famose catene sospese di Gaudì che gli hanno consentito poi di fare tutte le prove statiche insomma qui abbiamo il parco Guell eccetera eccetera cose ben note i miei sono studenti sono un po' nerd diciamocelo sono dei piccoli nerd sono studenti di liceo classico bisogna infilarci qualche cosa di classico in mezzo allora parliamo esattamente di questa cosa della firmitas dell'utilitas della venustas cioè ovviamente della stabilità della bellezza e della capacità di utilizzo in architettura e per far vedere loro che non è confinato all'architettura di Vitruvio faccio vedere questa pagina questa è una pagina di quest'anno ed è una pagina che è presa direttamente vedete qui in alto dalla pagina di Roberta Mirante che insegna progettazione alla facoltà di architettura della Federico II di Napoli dove riprende esattamente queste cose dice guarda che ancora oggi se vuoi fare l'architetto caro il mio ragazzo queste cose le devi sapere architettura e costruzione firmitas architettura e funzione utilitas architettura e forma venustas bene come siamo con i tempi? tranquillo? vado benissimo fantastico così posso ammorbarvi ancora un quarto d'ora venti minuti e questo l'ho messo perché tanto mi piace come molte delle costruzioni di Eiffel il ponte sul Garabì che è uno dei torrenti dell'Hardash e poi per nostalgia delle buone vecchie cose andate ormai inizio ad essere un po' vecchiotto anche io questo oltre a essere uno straordinario arco di catenaria oltre a essere ancora utilizzato guardate questa è la costruzione 1884 è il ponte che era celebre negli anni 70 per un famoso film Cassandra Crossing è il ponte su cui passa insomma il treno che deve essere salvato mentre viene dirottato carico di persone infettate da da un virus e facciamo vedere tutte queste queste cose poi siamo sempre classicisti per far vedere che come dire l'animo umano progetta sì e qui ritorniamo alle competenze ma va anche un po' per tentativi e un po' per senso pratico e qui siamo nel regno di Cosero I sono regni sassanidi quei regni intermedi tra la fine dell'impero romano e l'inizio dell'islam vedete siamo nel 540 d.C questa foto in realtà l'edificio sembra imponente è alto solo 25 metri però è a secco che non è una cosa banale questo è un arco di catenaria di nuovo per far vedere agli studenti insomma che momenti diversi civiltà diverse uomini però progettano e tendono a soluzioni che sono molto simili e questo secondo me da un certo punto di vista è molto molto istruttivo o poi vabbè Brunner insomma ve lo risparmio perché persone molto più competenti di me hanno fatto vedere cose più interessanti qui c'è la definizione di competenza e poi vorrei al riguardo raccontarvi una cosa e oh ma no caspita mi è già comparso Whitehead vabbè pazienza speravo che fosse rimasta volevo chiedervi c'erano due frasi una è una frase di un matematico e l'altra è una frase di un pittore però ormai temo che venga disvelata anche questa infatti allora torno indietro la frase del matematico ammettiamo che lo scopo della matematica è una divina pazzia dello spirito umano un rifugio dagli stimoli dall'urgenza degli avvenimenti contingenti da uno come Whitehead te lo puoi anche aspettare quello che non ti aspetti io li faccio penare prima di far vedere loro questa frase e spiegare di chi è è questa di Salvador Dalì ora avete presente chi è Dalì insomma non esattamente l'uomo più regolare della terra eh ok guardate cosa dice devi soprattutto da giovane usare la geometria come guida alla simmetria nella composizione delle tue opere so che i pittori più o meno romantici sostengono che queste impalcature matematiche uccidono l'ispirazione dell'artista dandogli troppo su cui pensare e riflettere non esitare un attimo a rispondere loro prontamente che al contrario è proprio per non avere da pensare e riflettere su certe cose che tu le usi cioè impara l'arte e mettila da parte avete presente la definizione competenze abilità una cosa quello che sai saper fare eccetera eccetera esattamente quella roba lì ora è vero che noi insegniamo per competenze abbiamo sempre insegnato per competenze è vero sì ovvero no un altro piccolo inciso io mi sono occupato lungo negli ultimi anni cioè i miei lavori scientifici storia della matematica riguardano i matematici della prima guerra mondiale in particolare Eugenio Elia Levi forse qualcuno di voi conosce Beppo Levi teoremi di analisi eccetera Eugenio era il fratello più famoso solo che ha avuto una piccola disgrazia una pallottola sparata da un cecchino il 28 di ottobre del 17 perché lui era volontario in guerra è andato sei volte volontario in guerra l'hanno congedato l'ultima è riuscito a rimanerci pluridecorato di guerra era un analista importante ma un analista importante di 34 anni quindi un'età non verdissima nel 1917 alto un metro e cinquanta perché la prima volta era stato riformato per deficit di statura dove viene arruolato nel genio Zappatori posto tranquillo non gli succede niente peccato che nessuno sapesse che la prima guerra mondiale sarebbe stata una guerra di trincea quindi lui si trova a combattere tutta la guerra in prima linea e il primo incarico che riceve è quello presso la conca di Plezzo a Saga nell'Alto Isonzo di costruire una galleria per posizionare degli obici ora pensiamoci noi siamo tutti più o meno matematici e fisici lui lo fa pietra viva con i suoi ingegneri scavano 60 metri di galleria che sono ancora visibili devia dal segmento che va tracciato in teoria di un centimetro in questi 60 metri quando nel giugno 9 giugno del 18 Pinkerle lo commemora a Roma alla facoltà di matematica assieme agli altri matematici caduti in guerra che sono Orlando Viterbi e Torelli lo commemora dicendo questo non si scoraggiò e chi è dotato di si bell'ingegno sa passare dalla teoria alla pratica senza colpo fallare questo per dire che effettivamente in qualche modo insomma un po' di competenze le abbiamo sempre masticate quando si parla di competenze perché non era come dire un ingegnere però era uno che pensava era il più grande analista europeo in quel momento in vita ci ha pensato un po' su e che cosa ha fatto è riuscito a costruire questa sua galleria poi ha fatto altre cose interessanti 5 minuti sarò rapidissimo 4 da 3 a 5 allora vado ancora più veloce aumento la frequenza delle parole la frequenza delle parole per dirvi che cosa tutta questa roba ha avuto una ricaduta perché come tutti è piombata sul nostro coppino l'alternanza scuola lavoro ora non è che tutti smagnino il desiderio di avere uno studente di liceo classico a fare l'alternanza scuola lavoro neanche in una grande città come Milano o come Torino noi ci siamo salvati per esempio perché abbiamo acquistato una stampante 3D abbiamo avuto in prestito un ingegnere che sapeva usare il CAD e che cosa abbiamo fatto una convenzione con il parco archeologico di Aralicigna capo colonna in provincia di Cortone dove c'è rimasta soltanto la colonna di Aralicigna è stato fatto un progetto i nostri studenti se lo sono studiato per il lungo per il largo e con l'aiuto dell'ingegnere sul CAD hanno tirato come si dice sulle quote hanno fatto stampare credo 400 ore di stampaggio stampante 3D abbiamo costruito un modello che sta girando tutta Italia 1 a 50 di questo tempio del tempio di Aralicigna ed è stata una come dire delle esperienze più replicate dalle altre scuole in giro adesso stiamo facendo altre cose sempre legate alla storia dell'arte sempre con un'altra stampante 3D adesso stanno viaggiando in parallelo sono stampanti 3D a doppio estrusore molto belle professionali insomma e questo ci ha salvati in qualche modo queste due curvature non posso raccontarvi di quella scientifica sono quelle che hanno avuto meno difficoltà a entrare nell'alternanza scuola-lavoro poi se qualcuno è interessato gliela racconto a parte dopo se volete posso mandare del materiale perché noi avevamo davvero metaforicamente adesso nel mio caso parlare di capelli è un po' dura però avevamo metaforicamente le mani nei capelli non sapevamo da che parte iniziare qui siamo andati via lisci come l'olio adesso brevissimo spot e come si traduce poi in altre cose prima la dottoressa ha detto che siamo autori Rizzoli la processa Consolini e io spotino rapidissimo questo è il nostro libro allora a un certo punto credo che la dottoressa Valentini possa dottoressa Franceschi chiedo scusa possa confortarmi si sono un po' lamentati i loro editor perché avevo riempito di disegni e di quadri il nostro libro sì la geometria è stata scritta così che cosa ci vedi nelle cose che stai vedendo noi abbiamo delle aperture delle aperture vanno in chiave di problem solving e anche di problemi di realtà nel senso che nelle aperture di ciascun capitolo ci sono cose che gli studenti sono chiamati a risolvere senza avere ancora le conoscenze che seguono che verranno sviluppate nel capitolo dopo per stimolo e per interesse per vedere se emergono appunto quei leader impliciti di cui parlava prima il professor Trinchero guardate qui ci sono alcune cose di architettura altre di storia dell'arte io ho il pallino di Mondrian infatti loro a un certo punto si sono lamentati del Mondrian ce ne erano troppi di Mondrian Mondrian viene comodo perché insomma sono tanti bei quadrati rettangoli giocavo facile ma sono anche ragazzini del liceo guardate qui ci sono problemi di tassellazione qua sotto beh cose più note ovviamente come la sezione aurea e in ultimo abbiamo una cosa che dal mio punto di vista è interessante io non ho alcun merito in realtà un parto della mente della processa Consolini che non so se riesce a manifestarsi in questo momento non la vedo si manifesta laggiù che questo del passaggio da un linguaggio da una forma di linguaggio ad un'altra cioè è richiesto di formalizzare in termini matematici o di interpretare in termini matematici altri linguaggi e qui vedete che cosa c'è scritto insomma non sto a leggerlo ecco per non dare fastidio col solito Mondrian qui abbiamo messo un Kandinsky ma in realtà c'è di tutto io ho la passione per la pittura del novecento credo di aver esaurito ah non ancora scusate poi c'è anche questa che è una delle competenze chiave impara ad imparare dove gli studenti vengono in parte guidati a costruire il loro sapere qui siamo un po' fuori della storia dell'arte però sempre sulla realtà compiti di realtà vedete viene chiesto di fare un'analisi di una situazione un po' particolare che è quella di un ginnasta riconoscere le rette incidenti che eventualmente si possono tirare fuori le parallele ed eccetera credo di essere stato nei tempi sperando di non avervi uccisi insomma vi ringrazio per l'attenzione se ci sono alcune domande io sono a disposizione anche dopo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti